Padre Tomisla, in questi giorni si sta parlando molto di Medjugorje e di queste apparizioni della Madonna. Da qualche anno con alcuni fedeli, con alcuni amici, abbiamo costituito la fondazione Fortezza dell'Immacolata con lo scopo di promuovere la persona umana e i valori cristiani allo spirito della Regina della Pace di Medjugorje. Tu per noi sei stato a Medjugorje dall'inizio, sei un testimone vivente, per noi sei padre Tomisla, al di là delle tue vicende, perché abbiamo visto in te sempre questa figura di padre, di sacerdote. Diverse volte hai dato una testimonianza positiva su Medjugorje, abbiamo anche pubblicato il libro intervista a Medjugorje della Madonna è viva. Allora volevo chiederti oggi qual è la tua opinione su Medjugorje, su questi eventi. La mia opinione è quella dell'inizio, la Madonna è viva. Ho assistito il fenomeno delle apparizioni della Madonna a Medjugorje. Ho compreso la grandezza della grazia che Dio offriva nella Madonna per la Chiesa e per tutta l'umanità. È difficile oggi anche parlare di quella potenza che era nell'inizio. Non soltanto che io ho accolto, dentro di me ho capito la presenza viva della Madonna. Anche il senso del popolo, tutto il popolo, 99% del popolo, della parrocchia, della vicinanza ha percepito la presenza della Madonna, un evento grandioso. Questa impressione profonda è rimasta nella mia anima e io ho continuato sulla traccia della Madonna a vivere e sviluppare quella grazia dentro di me. Oggi devo dire che la Madonna è viva. Lo dico di nuovo. Io non sto a Medjugorje, sto lontano da Medjugorje, non posso dire certe cose di cronologia, di quello che sta succedendo, che cosa vivono i Legenti in questo momento. Ma posso testimoniare in modo particolare due fatti. Ogni volta quando passo di là e mi fermo nella preghiera sento la presenza viva, potente della Madonna. Adesso vivo ritirato e sento la presenza viva, potente della Madonna in questi tempi e sono grato anche io per queste azioni. Perché sono così importanti, padre, le apparizioni mariane in questi tempi, ma anche in tutto questo secolo scorso? Adesso parliamo di Medjugorje. L'importanza delle apparizioni della Madonna, in modo particolare se seguiamo le apparizioni grandi del secolo passato e partendo dall'Ult, Fatima e Medjugorje, è che la Madonna appariva nei momenti difficili per l'umanità. Nel momento delle apparizioni della Madonna all'Ult incalzava un ateismo potente in Europa. Nel momento delle apparizioni della Madonna Fatima minacciava una guerra per la Terra. Ma non soltanto la guerra sulla Terra, ma come abbiamo spiegato anche una guerra interplanetaria che oggi possiamo toccare con le mani, in senso che anche tutti i dati che possiamo leggere oggi coinvolgono la Terra in una situazione di complicità del vasto universo. Allora Dio manda uno strumento più potente sulla Terra perché viene la Madonna a riportare il popolo verso Gesù Cristo. perché è la Madonna, perché è la madre di Dio, perché è la madre nostra, perché nessuno può avvicinare l'uomo a Dio, a Gesù Cristo come la Madonna. e la sua apparizione segna anche quello che è il futuro della Chiesa, del popolo di Dio e dell'umanità. La Chiesa del Cielo deve unirsi alla Chiesa vivente della Terra e non soltanto della Terra ma di tutto l'universo. Questo dice la scrittura e la scrittura parla della donna, della donna nell'Apocalisse. La Chiesa crede che quella donna è la Chiesa ma nello stesso tempo è la Madonna perché è la madre della Chiesa e nello stesso tempo è uno strumento eccellente, un membro della Chiesa eccellente e nessuno può manifestare quella vita in Dio come lei che è assunta nell'anima e nel corpo in cielo. Quali sono le particolarità delle apparizioni della Regina della Pace? La particolarità viene proprio da questo filone, filo conduttore che possiamo vedere dalle apparizioni di Fatima e prima di Lourdes. prepara tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio verso un rapporto con Dio corretto, immacolato. Ma che cosa è questo? vuol dire che il contenuto del nostro battesimo deve raggiungere la sua maturità, come dice anche San Paolo nella lettera di Efesini, un uomo maturo. e in questa strada Međugorje si presenta come apparizione, come una preparazione per questi tempi escatologici che portano verso la creazione nuova, verso la manifestazione del Signore glorioso. e questo è un processo e la Madonna voleva guidare il popolo di Dio verso questa realtà e perciò le apparizioni della Madonna sono tanto lunghe tanto lunghe e Dio le ha permesse per preparare il popolo di non lasciare il popolo solo nei tempi che sono difficili oggi e domani ci aspettano le prove più grandi sono anche molto contrastate queste apparizioni soprattutto molti si scandalizzano per i messaggi di ogni giorno cosa ne pensi tu? questa domanda è importante ma non si riferisce soltanto alle apparizioni della Madonna ai Vegenti su questo si riferisce ai cristiani il vero cristiano dovrebbe aprire ogni giorno il Vangelo a ricevere una parola di Dio i consacrati sacerdoti ogni giorno recitano, pregano i salteri e pregano e leggono le parole della Bibbia ma perché ogni giorno? credo che i sacerdoti anziani possono dire che hanno letto mille, 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 migliaia, migliaia volte della stessa parola però alla fine tutte le parole si concentrano e riducono a quell'essenziale così le parole delle belle attitudini che sono brevi possono cambiare la vita degli uomini se gli uomini li assumono ogni giorno e permettono che quelle parole del Signore li trasformano poi quando si parla della parola della Madonna mandata da Dio non è una parola letta da un libro che in un libro il Vangelo può essere morta è quasi morta quella parola quando le persone le leggono anche gli atei o le persone superficiali quando si parla della parola che la Madonna pronuncia è una parola di una potenza incredibile se le anime sono aperte possono essere cambiati, trasformati la Madonna si presenta con poche parole perché noi siamo sordi, non vogliamo andare oltre la Madonna in questo tempo voleva preparare veramente preparare l'umanità per i tempi nei quali siamo e si manifesteranno in tutta la sua portata a mettere l'uomo davanti alla scelta Dio o contro Dio come hanno risposto le persone voi vedete bene aiutaci a comprendere le condizioni per entrare nella grazia di Mijugori per comprenderla a fondo, per viverla ma le condizioni sono uguali per ogni grazia non soltanto per le apparizioni della Madonna noi abbiamo un miracolo più grande che Dio ha fatto per mezzo di Gesù Cristo l'Eucaristia e come sapete come si può partecipare all'Eucaristia in modo superficiale o tradire l'Eucaristia se ricordiamo le parole di San Paolo che dice partecipare indegnamente all'Eucaristia vuol dire consumare la morte farsi male allora la nostra risposta sta per tutte le grazie e anche le apparizioni della Madonna noi possiamo comprendere soltanto se ci spogliamo fino al fondo spogliamento fino al fondo era necessario per il Figlio di Dio Gesù Cristo doveva rimanere per così dire in piedi in Dio l'agnello sguzzato rito in tutte le prove spogliato di se stesso questo spogliavento di tutto quello che sono le ombre dell'egoismo impedisce a comprendere la presenza della Madonna c'è l'invidia, c'è gelosia ricordo benissimo il mio incontro con Fon Bartasar a Basilea quando ha detto come siamo noi uomini la Madonna non potrebbe apparire in nessun luogo a nessuna persona l'invidia l'invidia per i territori per le parrocchie ci sono dappertutto eppure la Madonna appare e bisogna spogliare tutto questo per poter vedere la presenza della Madonna allora il cammino delle persone le quali vogliono cogliere tutta la potenza della grazia che viene attraverso la Madonna la condizione è spogliamento di se stesso spesso hai parlato del gruppo di preghiera guidato dalla Madonna cosa hai imparato per la tua vita da quell'esperienza? in quel momento quando seguivo il gruppo di preghiera ho intuito la profondità ho capito certe cose diciamo per me era importante per i passi da seguire ma oggi lo vedo fondamentale quella preghiera introduceva nella vita della Santissima Trinità semplice attraverso una vergente di nove anni una bambina senza terminologia teologica con semplicità introduceva rimango sempre stupito dalla frase che la Madonna ha detto molti pregano pochissimi entrano nella preghiera entrare nella preghiera vuol dire entrare in rapporto vivo con Dio Trino e Uno la Chiesa definisce e dice che la sua identità trova nella Santissima Trinità nell'Eucaristia e la Madonna voleva introdurre ogni membro e tutto il gruppo a vivere questa dimensione con la semplicità la mia esperienza è adesso quanto mi allontano di di quello abbandono di entrare nel rapporto con la Santissima Trinità tanto vado nella superficie quando vivo il rapporto vivo con la Santissima Trinità allora sgorga la vita tutto il cammino, tutto l'impegno dovrebbe essere di ogni gruppo, di ogni comunità religiosa ogni nucleo, di tutto il popolo di Dio se il popolo di Dio non fa questa strada dell'offerta a Maria Santissima attraverso di lei a Gesù Cristo fa la strada sbagliata a Gesù si arriva attraverso il suo cuore perché è la madre del popolo tu ti aspetti il riconoscimento delle apparizioni? probabilmente tu intendi il riconoscimento giuridico da parte della Chiesa Ufficiale questo è un aspetto del servizio da parte della Chiesa Ufficiale un accompagnamento ma il vero autentico riconoscimento delle apparizioni avviene in quelle persone che hanno accolto la Madonna a questo punto di vista io dico la Madonna è già riconosciuta a me già al popolo quel senso della fede di fede che sul quale la Chiesa appoggiava e si misurava quando proclamava le verità i dogmi è molto molto importante e io vi dico che la Madonna è la regina della pace è entrata in molti cuori e c'è un popolo scintillante che porta questa scintilla porta questa vita e questo popolo la riconosce se io se io aspetto il riconoscimento io aspetto il trionfo del cuore immaculato di Maria lei triunferà e voglio dire al popolo che ha scelto la Madonna che ha accolto la Madonna non temere la Madonna triunferà però ricordate bene che la Madonna triunfa già nella risurrezione di Gesù unendosi prima al suo sacrificio allora tutto il popolo deve passare attraverso le prove per essere fedeli fino al fondo a Gesù Cristo qui si presenta la madre che accompagna il suo popolo nella tua predicazione nell'offerta della vita attraverso Maria Gesù è alla base sempre quando ti conosciamo Međugorje cosa puoi dire al popolo che segue Međugorje che vuole entrare nella vita della Madonna che strada percorrere come come è meglio incamminarsi infatti questa non è la mia predicazione soltanto questa è la verità Dio ha chiesto Dio ha chiesto a una donna Maria di Nazareth di accoglierla l'ha accolto e non l'ha accolto soltanto nel suo corpo lo ha accolto nella sua anima ha dato la vita a Dio e ha continuato a dare la vita anche al suo figlio e l'ha offerto nel suo cuore non c'è altra strada di uscire dall'egoismo che si è formato nell'uomo quando si è staccato da Dio non c'è neanche altra strada per partecipare pienamente all'Eucaristia ma come si può comprendere l'Eucaristia se non partecipiamo pienamente alla vita di Cristo e chi ci può aiutare a vivere da Immacolati come dice San Paolo se non con lei che è Immacolata sin dal momento del concepimento la strada dobbiamo percorrere tutti noi e lei è in mezzo a noi vuole aiutarci soltanto dobbiamo aprirci a lei dobbiamo cogliere lei e vivere con lei in alcuni messaggi Maria dice che voleva apparire sul porto dei parrocchiani dei Pellegrini aiutaci dei Pellegrini questo conferma la verità cristiana i cristiani si chiamano cristiani Cristi e Cristo dovrebbe apparire sul mondo chi coglie la Madonna si trasforma in un'altra persona e ogni cristiano dovrebbe manifestare la creatività di Dio sia l'uomo sia la donna e portare in sé la paternità e la maternità in Dio senza questo la potenza di Dio non può agire nell'uomo non possiamo ridurre il nostro cristianesimo a una teoria quando Gesù è venuto si è incarnato e Maria deve essere incarnato in un popolo suo in tutto il popolo suo e chi accoglie Gesù Cristo viene trasformato questa è la testimonianza di tutti i santi il senso profondo mi pare di capire delle apparizioni a Međugorje quindi non è solo un luogo di preghiera dove avvengono tanti miracoli insomma tante persone sono guarite hanno cambiato la loro vita ma è proprio la trasformazione della loro vita immagine e somiglianza della Madonna che di somiglianza di Dio di questo ci parla il Vangelo di questo ci parla San Paolo quando parla dei cristiani noi che veneriamo la madre di Dio e la chiamiamo la madre la chiamiamo la regina dell'universo non pronunciamo per favore queste parole come numeri di gioco di lotto queste parole hanno un significato profondo Dio lei è la madre lei è la regina se è la madre allora per la grazia di Dio ci genera la credenza è la madre la madre della chiamina la madre della chiamina se vuoi darci un saluto al popolo nell'appicinarsi dell'anniversario e delle apparizioni e anche sembra che daranno diranno qualcosa riguardo alla veridicità, cosa si è espresso il Papa, toccato la santa. Se tu vuoi dire qualcosa. Io voglio dire soltanto questo, che il popolo con tutta la consapevolezza di un cristiano è accolga la vita, accolga la vita dei santi, perché la Chiesa del Cielo sta manifestandosi. E la liturgia della Chiesa che celebra ogni giorno la presenza del Signore non è un rito, è celebrare la comunione con la Chiesa universale, con la Chiesa del Cielo, in comunione con Maria Santissima, essere uniti a Cristo, non c'è altra strada. Non temete, non temere il popolo di Maria, non temere, Maria trionferà, perché il suo figlio trionferà. Andate con sicurezza avanti. E voglio dire anche che l'umanità aspettano le prove di Dio, anche la Chiesa. Dio porterà tutto alla luce, e non può portare alla luce se non spinge il popolo fino ad accettazione piena della vita di Dio, che passa sempre attraverso le prove. Allora, anche le prove quotidiane che incontriamo ci preparano per gli eventi grandi, perché negli eventi grandi si crea anche la confusione interiore, la paura, insicurezza, incertezza. E noi siamo chiamati a aspettare questi tempi radicati in Dio, a buon piede, anche se dobbiamo soffrire, essere provati. Non tradite Gesù Cristo mai, non tradite la Madonna mai. Quando dicono tradite, siate vivi con Gesù Cristo, siate vivi con la Madonna e manifestate. E il volto della Madonna è il volto di Gesù Cristo. Grazie per le tue preghiere, grazie per le spiegazioni, e ti chiediamo Padre di continuare a pregare per noi, e ad accompagnare. Sappiamo che hai offerto la vita per migliori, perché si svegli pienamente il piano della Madonna. E anche per questo ti ringraziamo. E io vi benedico tutti, in nome del Padre, del Dio e del Spirito Santo. Amén.